Voglio ritornare Toscani proprio ai tempi in cui lei lavorava per la United Color of Benetton e a quelle famose campagne pubblicitarie che sono state un po' la prima, il pioniere di quell'idea di multiculturalismo che è arrivato anche in Italia. Oggi si torna a parlare di emergenza sbarchi, di paura di questi arrivi per mare. Secondo lei il governo che cosa dovrebbe fare proprio nel giorno in cui viene chiesto il processo anche per Salvini che è stato colui che ha propugnato l'idea dei porti chiusi? Non saremo civili finché non ci sarà la libera circolazione dell'essere umano nel mondo. Così come i prodotti, le merci, tutti vogliono Rolex, il Rolex può girare il mondo, tutti lo vogliono. No, noi no, io essere umano non posso girare il mondo, è pazzesco. Non siamo civili, cioè l'immigrazione sarà la ricchezza del futuro. Qua non ho mezze parole. Grazie a Oliviero Toscani. Grazie.